l'epso di starcraft o i wings of liberty Ora siamo tornati a filmare con i bani come normali Non ne abbiamo mai preso placchi di captura perché, no, non potremmo uscire perché non avevamo il telefono la dispozitia mea e tocmai ho fatto come misure che erano opzionale Quindi... Non ne abbiamo mai preso placchi di captura perché non ne abbiamo mai preso perché non abbiamo il telefono a disposizione di mea e in questo modo ok, non ne importa solo prendere la misura e andare dove è Tosh? pensavo che sarebbe qui per ora ha già lasciato il telefono e pensavo che... quale? signor, abbiamo una trasmissione di attrazione è molto incrippato lo spettacolo beh 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 la famiglia di Jim Raynor mi nome è Nova dovremmo parlare ora, cosa potrebbe dire di una di una di una di mea che ha detto a mi? Tosh sta menti a te che? prendere Tosh a te mi sono sicuro che sta ascoltando in comunque incrippato o non we Spectre sia il futuro tu non potresti ma non potresti non potresti ma non potresti ogni ghost che diventa un Spectre ha avuto una scuola psicotica la scuola che ho capturato sono preso in New Folsom non dubbi non senti a te non parlare non senti a te mi aiuto scuola questo è il tipo ho fatto un certo non potresti mi comporti guardare ming and my people will do she won't even join you he's a psychotic time bomb he'll be on your side right up until he puts a knife in your back this be the moment of truth make your choice okay cut uh spectre mission reward snipe okay a it doesn't matter how much you hate megs tosh if you and your spectre are as bloodthirsty as it sounds you're as much of a threat as he ever was asha i'll be seeing real soon you'll regret this brother all right nova what's your plan bagatare femeie tosh's spectre facilities are on avernus station join me there and we can shut it down for good okay i'll send you shut down the channel now so this is where tosh plans on building his spectre army lol i've identified three facilities that are vital to his operation our first target will be the jorium stockpile next will be the terezine tanks and finally the sionic waveform indoctrinator tosh uses to complete the spectre's activation process what all right so we destroy all three of those targets and tosh is out of business the tosh knows every trick in the book when it comes to infiltration i can penetrate most the tosh knows every trick in the book when it comes to the the tosh just leave him to me wow pew pew i've cleared a landing zone for your forces let's get this party started mamma ce smecherite that sniper bai uite bai ce smecherite foarte foarte cool bai jocul asta nu stiu de ce a mie mi s-a parut m-am aș spune dată un joc destul de boring dar se pare că m-am își reluat total o doamne nu deci chiar abia aștept să să joc și așa cât timp suntem acum în loading skin ce ați preferat să vedeți ca o nouă serie metro of the last light sau metro 2033 eu sincer aș prefera să fac metro 2033 înainte pentru că nici nu l-am jocat și chiar am auzit că are legătură destul de mare că continue exact după metro 2033 ceea ce cred eu că ar fi mult 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 mai bine să facem să fac metro 2033 dar dacă mulți vă hotărâți să vreți last light voi face last light dar vă spun că și 2033 are cum să zic o valoare deci va trebui să-l facem oricum deci nu știu eu vă întreb pe voi ce v-ar tăcea mai degrabă sunt sigur că mulți ar trebui să mergeți pe last light dar eu am vaga presimțire că vreți mulți să vedeți mai întâi povestea și de aia să vă aregeți wow wow look at that bitch Damn nigga Wow Vira un cofre man Pusca man Sper ca-ti revii Cuiii mei Tocamai am murit un tel meu Tipa asta nimeni de minte Hai sa ne intalnim Hai sa ne intalnim Hai de easy Uuuu Kako mai ra ciova aici Ea mai ra ciova Strictly business Consider it done Damn Strictly business Atenu Iš damn nigga Hai da si healer tipa Dajem plac mi je terani Ten kao healer Creda ka narfi avu healer mi Narfi avu healer mi Narfi avu healer mi Narfi avu Uuuuun Hai sa Prosi O shiit 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 si potete dominare la criella a qui wow wow nice nigga ce potere genieva are hai da hai con sigtime cu tau bun initiare l'assultat Non c'è paziente per farciare! Dice di nuovo? En route. Confirma l'ultima. Sto facendo. Oh posso traga questa? BAM! Si muerderia a dispare Poi ci non si te la sapete odata giusta Ok Poi uscire il bici Bravo Boom ho capito loud and clear sulle faccio che succedere sulle 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 inapoi napoi napoi adempi loud and clear dai ce era acolo nova dai perfect mamma disci fera che senza che preferìu for assim Forse è il successo Nev lo sai a te per tratato Ti avessi un ottimo loco frio Buon lavoro ragazzi Il prossimo target è il misure Terezin Oh ok Oh shit C'è volo? C'è se è? Sniperi? Oh shit Zdario Sto dicendo che vedo qualcosa Dobbiamo scoprire il posto in autoturretti Ci troverà Scopo 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 En route Preparare per terminare Spopo Scopo 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 LZ è sicurato Puoi cominciare la scopo Gim E vedo se pot pot aprire la scopo Cora Cora Il Scopo Il 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 Sta aici, dove hai scutato? Eccolo come la luce Sendo anche una raivena La connessione è aperta, facciamo un po' di nuovo Confirma il punto ultimo blantabile blantabile Crafti un'azir l'azir blantabile Dimitiamo di una fiatta Stai avendo Sa attenzione Non è deciso con me Compliment Nyarlato La sua voce e chiaro Iniziando un'assistente Sto sento in più Reapers, sono in modo loro ora Sto a te riempire Sto a te riempire Sto a te riempire Orte. 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 Stai. Te leggiamo. Statistica. Orte. 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 S-a tracciato. Orte. Buun. Haide. Orte. 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 Aosu. S-a tracciato. Hsi, tiu, tiu. 要 preparare a usapă-nătate. Calecă și clear. Stapura. O fac 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 fac. S-a tracciato. Stai, cum vede? Acum faci-o face. Dabracu. Calecă și clear? Aosu. To-asta. Stai 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 Ok, ora stai un po' per tutti questi Stai Sunt mai impese de nimi, stai? Credo che ar fii cel mai bine Pantaca buii mei, uite cat HP mai am Oh my god Buuuun Non vedono me a venire Consideri-o finito Inca putin, inca putin Si sa putem sa spargi din capa tipului asta Strictly buuuun Aconselato No problemo Stai-mi aapta, mentre si scopio Stai-mi aapta Dostaj-mi aapta Suntem Stai-mi aapta Stai-mi aapta Stai-mi aapta Novo Execuio Sto facendo l'interno. Sto facendo. Iniziare l'assalto Faccio che succedere considerate che è finito. Stricamente un negozio. Aggiungi. En route. Entendete? Cucca. Cucca. Oh Jimmy dat nuke. Aggiungo. 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 Considerate che è finito. Aggiungi. Aggiungo. Staci ma. 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 Oh lol ce-mi da? Da un ceva bun in Raynor. N-am mai dat un cacat. Staci ma. Staci ma. Ażej. Ok. Ok. Buena, buona, buona, buona. Poi, puo, puo, pui. Ente ai aireshitto. I fucking hate the entire airsheets This is more basalt mode than push, come on Satisfaction, strictly business. Apoi, cred ca tu ar trebui sa treci asa, si tu asa. Cel mai bine, ca vad ca ea din aer nu se ataca in aer, el ala sa se ataca asa, pentru ca nu se ataca, nu a ințeles nimica. Apoi in chestia aia. Bun, astea ce sunt? Niște baricade. Lol, ce e locul asta? E to-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Cee-c-e-c-e. Wow, distrape. Chia-c-e-c-e-la noi trebui. seguito preparando detenimento engage in avanti initiando azalt avanti 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 Aoleo, non voglio il doctor Pusca mea, il doctor è fosse la mia buona Trage il sito a stai Preparare la scuola Stai En route hoi dai e in 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 i 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